Cari colleghi, è un piacere essere qui come al solito con voi per presentarvi uno dei miei libri più famosi, il Faccial Aging. È un libro, a mio parere, che compendia un po' tutte le tecniche chirurgiche, mediche, odontostomatologiche, è molto completo con tutte le tecniche possibili, come al solito un libro molto pratico che permette di vedere sia le parti anatomiche sia le parti proprio pratiche, come sempre una scommessa per vedere se riuscite a capire e a ripetere una tecnica solo con delle fotografie. Un libro anche che mi è costato molto tempo per. L'ho fatto con Frederick Braccini che è un caro amico e collega della Francia, spero che vi piaccia. Come al solito se volete su medicalesthetic.it potete ordinarlo e seguitemi sul mio canale YouTube. Grazie. Grazie. Grazie.